Buongiorno. Sono il presidente di Seggio e sono pubblico ufficiale qua, perciò militante Maroni... Mi vedo il documento? L'hanno rubato la giacca. Dov'è Bernesto? Con asciutta a vista. Questo è il numero della tessera? Ancora? Numero 2. Eh, parola. Non lo so se... 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 Vabbè, 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 vabbè. Scusa. Vuoti? Vuoti? Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Di qua. Grazie. Grazie. Grazie.